Attenzione Chiocon, punta dritto la Ferrari di Sebastian Vettel Ha perso un po' di margine adesso Sebastian Vettel da Hamilton ma si mette all'esterno, Vettel che va all'attacco di Lewis Hamilton gli ha preso la scia e poi l'ha passato all'esterno attenzione arrivano a Ventagno con la sembracola addirittura all'interno, Sebastian Vettel è il Gran Premio del Belgio